Una denuncia per maltrattamento di animale ancora contro i gnoti è quella presentata da Marta Serpolla, avvocato responsabile della colonia, Felina di Umbertide. La querena nasce da quanta caduta Tony, il micio a cui hanno sparato per l'uccidolo, ma è ora tornata a casa sano e salvo. Dunque, il 20 marzo abbiamo attenzionato un animale della colonia, il nostro Tony, che è un gatto tigrato, che aveva la zampa posizionata in maniera completamente innaturale ed era dolorante. Pensavamo all'inizio se era fatto male. Catturato, l'abbiamo portato al servizio veterinario e ci abbiamo avuto una mara sorpresa, perché il servizio veterinario ci ha riferito che la gamba, la zampa, era piena di pallini. Quindi circa 300 ci hanno riferito, quindi è di tutta evidenza colpito da un colpo d'arma da fuoco. Dunque è stato ricoverato circa un mese e fortunatamente l'altro ieri è tornato. Quindi siamo liete che questa brutta storia abbia avuto un esito positivo. Un'altra bella notizia quindi per la colonia Felina a pochi passi dal Tevere, dove proprio alcuni giorni fa ha aperto i battenti il primo condomincio dell'Umbria, dove attualmente trovano a ricovero circa una quarantina di gatti. C'è anche però un lato meno dolce. La colonia è stata oggetto negli ultimi giorni di alcuni atti vandalici. Purtroppo però ho anche ricevuto notizia che un altro gatto, questo di proprietà privata però, sia stato colpito penso dagli stessi pallini perché ha avuto una ferita al muso. Abbiamo depositato una denuncia querela il 17. Parallelamente però l'ASL ha avviato un'indagine sua con segnalazione ai carabinieri forestali che stanno facendo indagine ed hanno fatto anche un sopralluogo per renderci conto perché siamo proprio a ridosso del centro abitato, cioè siamo lungo le rive del Tevere ma a ridosso del centro abitato.